E io non parlo in italiano Sto scaricando un po' di contenuto che ho velocizzato perchè è una noia Poi mostrerò alcuni degli oggetti e farò un commentario Metterò anche un link nella descrizione dove puoi trovare i CC perchè YouTube mi odia e i crediti sono necessari Le skin sono carine, mi piacciono gli occhi Si credo mi piacciono tutte Che ne dite se ve la faccio semplice per voi Nessuna scelta solamente dirvi se conviene prenderli Perchè la mia opinione vale ora solo perchè lo dico io Si sono delle sopraccigli da Paoli Guardate quelle foto di prima mi piacciono Sarò onesta non ho molto da dire riguardo a nessuna di queste cose Guardo i video per vedere gli oggetti non per ascoltare la persona che parla L'unica ragione per la quale parlo in questo video è perchè mi piace E le sim è belle Mi ricorda di belle Un bel paio di capelli stavolta e mi piacciono i vestiti moltissimo Preferisco ancora il match di Maxis al momento ma potrebbe cambiare Anzi lo preferisco per il gameplay ma probabilmente alfa perchè Apporto le tre cose non ho un mess per tutto quello che funziona Ora devo solo linkarlo e apposto così Meno male no Una vita o questo sarebbe stato un noio Voglio dire lo è ancora Ma è la cosa più interessante che ho fatto oggi Fa diventare un ottimo investimento del mio tempo Iscrivetevi per altro contenuto di qualità Ok sono ovviamente senza esperazione Ciao Bene 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.